Ciao a tutti, e bentornati su DS Tyres, il canale che vi tiene sempre aggiornati sulle ultime novità e le migliori scelte per la vostra auto. Oggi abbiamo una puntata speciale per voi, scopriremo insieme quali sono le 5 migliori batterie per auto attualmente sul mercato. Dalle più durature alle più efficienti, vi guideremo attraverso una selezione accurata per aiutarvi a fare la scelta giusta per il vostro veicolo. E non dimenticate, se trovate i nostri contenuti utili e interessanti, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei nostri video. Pronti? Allacciate le cinture e partiamo subito con la nostra top 5. Al quinto posto della nostra classifica, troviamo la batteria Speedmax, una vera e propria innovazione nel mondo delle batterie per auto. La batteria, è fondamentale nell'impianto elettrico del vostro veicolo, agendo come un contenitore di energia elettrica. Grazie a specifiche reazioni chimiche, fornisce e accumula corrente continua, essenziale per il funzionamento dell'auto. Ogni batteria, si distingue per caratteristiche del tipo, tensione, capacità e corrente di spunto. La Speedmax eccelle in questi aspetti, essendo progettata per soddisfare le esigenze prestazionali più severe delle automobili moderne. Questa batteria non solo garantisce elevati spunti in ogni condizione di utilizzo, ma minimizza anche il fenomeno dell'autoscarica, un problema comune in molte batterie. Inoltre, la Speedmax offre una garanzia di due anni, assicurando affidabilità e tranquillità per un lungo periodo. È la soluzione ideale per chi cerca partenze immediate, anche nelle fredde mattine invernali. Prima di procedere all'acquisto, però, ricordate di verificare la compatibilità della batteria con la vostra auto. Al quarto posto, si distingue la serie Titanium Pro di Fiamma, una batteria che incarna l'eccellenza della tecnologia e del design 100% made in Italy. Questa gamma è stata creata per rispondere alle richieste energetiche più esigenti delle auto moderne, garantendo potenza e sicurezza. Le batterie Fiamma sono prodotte negli stessi stabilimenti dove vengono realizzati i componenti per il primo equipaggiamento, tutti certificati secondo lo standard automotive ISO TS 16949. Questo assicura un livello di qualità paragonabile a quello delle case automobilistiche più prestigiose, come Opel, Mercedes-Benz, Peugeot e Citroen. Una caratteristica notevole della gamma Titanium è che non richiedono rabbocchi durante l'intero ciclo di vita, grazie a un consumo d'acqua ridottissimo. Inoltre, la tecnologia al piombo di tipo tradizionale è ideale per le applicazioni di avviamento di motori termici, specialmente in condizioni di basse temperature. Fiamma si distingue anche per la sua versatilità, offrendo batterie senza manutenzione, perfette per le auto, e batterie a ridotta manutenzione per veicoli più pesanti come camion, autobus e trattori. La nuova gamma Titanium nasce dall'esperienza OEM di Fiamma, portando nel mercato del ricambio un prodotto di alto livello con un forte carattere italiano. Le batterie Titanium Pro si affermano per la loro potenza, adattandosi perfettamente ai formati europei DIN, e sono caratterizzate dal coperchio Safety Power Check, usato dalle case automobilistiche europee. Soddisfano anche i requisiti di manutenzione 0 secondo la norma in 50342 e sono qualificate come Matching Quality Spare Part secondo il regolamento EU4612010. Infine, il check control su tutta la gamma permette una rapida verifica dello stato di carica, rendendo la manutenzione ancora più semplice. Fiamma Titanium Pro è la scelta ideale per chi cerca una batteria potente, affidabile e completamente italiana. In terza posizione, troviamo la batteria Exide Premium Carbon Boost, che si distingue per le sue prestazioni superiori e tecnologia all'avanguardia. Questa batteria offre un incremento del 30% di potenza in avviamento rispetto a una batteria standard, garantendo una risposta immediata anche in condizioni difficili. Una delle sue caratteristiche più notevoli è la durata estesa, soprattutto in condizioni di esercizio ad elevate temperature. Il doppio coperchio termosaldato e sigillato assicura la massima sicurezza, impedendo fuoriuscite indesiderate. L'idrometro ottico integrato permette di monitorare facilmente il livello dell'elettrolito e lo stato di carica della batteria. La batteria Exide Premium Carbon Boost si avvale di un sistema labirinto brevettato da Exide, che agevola il riflusso delle particelle di acido e previene la loro fuoriuscita. Questo design innovativo la rende completamente senza manutenzione e permette di inclinarla fino a 60 gradi senza rischi. Le piastre di questa batteria hanno uno spessore maggiorato, che assicura una maggiore riserva di capacità. La resistenza alla corrosione è notevolmente aumentata grazie all'uso di griglie in metallo Exmet e ledi piombo calcio. Un aspetto rivoluzionario della Exide Premium Carbon Boost è la sua capacità di ricarica rapida, fino a due volte più veloce rispetto alle batterie standard, grazie all'aggiunta di additivi di carbonio sulle piastre. Questa tecnologia, emersa durante lo sviluppo delle gamme AGM e FB, migliora l'accettazione di carica e riduce significativamente i tempi di ricarica. Progettata per resistere a temperature estreme, elevati equipaggiamenti energetici e condizioni di guida urbane intensive, l'Exide Premium Carbon Boost è la soluzione ideale per chi cerca una batteria affidabile, potente e durevole. Al secondo posto della nostra classifica, troviamo la Bosch S4008, una batteria che combina prestazioni di alta qualità con una tecnologia innovativa. Questa batteria è ideale per veicoli che richiedono una potenza di avviamento ottimale e una lunga durata, caratteristiche fondamentali per le auto moderne che utilizzano un numero crescente di componenti elettrici. Il cuore della Bosch S4008 è la griglia brevettata Power Frame, che assicura un flusso di corrente ottimizzato e una ridotta corrosione, garantendo così prestazioni di avviamento superiori e una durata prolungata. Questa tecnologia è una delle chiavi del suo successo. In aggiunta, la batteria è completamente esente da manutenzione, grazie al suo doppio coperchio con design a labirinto che restituisce l'acqua di condensa alla batteria, riducendo il consumo di acqua. Questa caratteristica la rende estremamente affidabile e sicura, evitando la necessità di interventi periodici. La sicurezza è ulteriormente rafforzata dalla doppia protezione contro il ritorno di fiamma e dal degasaggio centrale integrato. È importante notare che la Bosch S4008 è adatta ai veicoli senza sistema start and stop, e si consiglia di utilizzare l'identificazione del veicolo per confermare la compatibilità. Tra le altre caratteristiche degne di nota, troviamo il coperchio a labirinto per una maggiore sicurezza operativa, i copri terminali che forniscono una protezione contro i cortocircuiti e il separatore tascabile permeabile agli ioni, che previene il contatto tra la piastra positiva e quella negativa. Migliorando sia la durata sia la potenza iniziale. In cima alla nostra classifica, la Varta Silver Dynamica GM si impone come leader indiscussa nel settore delle batterie per auto. Questa batteria non solo vanta una durata del ciclo tre volte superiore rispetto alle batterie convenzionali, ma offre anche prestazioni di avviamento a freddo rapide, garantendo un avviamento sicuro del motore anche nelle condizioni climatiche più estreme. Uno degli aspetti più rilevanti della Varta Silver Dynamica GM è la sua compatibilità con i veicoli dotati di sistemi start-stop. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questa batteria supporta uno spegnimento del motore più rapido, prestazioni superiori e una maggiore durata, contribuendo a un notevole risparmio di carburante. Prodotta in Germania, nell'impianto di produzione AGM più grande al mondo, la Varta Silver Dynamica GM utilizza la griglia brevettata Power Frame per un'elevata potenza di avviamento e una rapida ricarica, oltre a una resistenza alla corrosione superiore. Questa batteria è un punto di riferimento per tutti i veicoli di nuova data, trovando impiego nel 80% di tutte le nuove auto prodotte con tali sistemi. La tecnologia AGM, Absorbent Glass Mat, è un'altra caratteristica chiave. Le batterie AGM sono sicure, non perdono neanche in caso di fessurazioni e offrono una durata tre volte superiore rispetto a quelle convenzionali. Sono ideali per sistemi start-stop avanzati dove è richiesta una ricarica rapida tramite il recupero dell'energia in frenata. Le batterie Varta Silver Dynamica GM, disponibili in diversi modelli con capacità, con la ricarica cold cranking amps e dimensioni variabili, sono completamente riciclabili e prodotte seguendo processi a risparmio energetico. È importante ricordare che una batteria AGM deve sempre essere sostituita con un'altra AGM e che Varta consiglia di effettuare la sostituzione in un'officina qualificata. E con questo, si conclude la nostra top 5 delle migliori batterie per auto sul mercato. Speriamo che queste informazioni vi siano stato utili per scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze. Ricordate, se avete trovato questo video interessante e informativo, iscrivetevi al nostro canale di S-Tires per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e consigli nel mondo automobilistico. Per chi fosse interessato all'acquisto di una di queste batterie, troverete i link diretti ai prodotti nella descrizione qui sotto. Assicuratevi di dare un'occhiata e valutare l'opzione migliore per la vostra auto. Grazie per averci seguito fino alla fine. Alla prossima!